Ciao amici, oggi vado a leggervi una storia tratta dai grandi classici Disney e andremo a leggere questa storia che si chiama Zio Paperone e la Torre di Pisa testo di Giorgio Pezzin, disegni di Giorgio Cavazzano tratta dal Topolino numero 1499 del 19 agosto 1984 Iniziamo Zio Paperone e la Torre di Pisa Urrà! Anche fuochi artificiali? C'è grande festa al deposito oggi Lo zio avrà combinato qualche grosso affare Allora sarà senz'altro di buon umore Potrebbe scapparci qualcosa anche per noi, corriamo a vedere Poco dopo Eccolo Arrivederci allora, avete fatto un affare d'oro? A chi lo dite? L'affare migliore l'avete fatto voi caro Paperone Io però sono contento lo stesso Con questi soldi potrò farmi tranquillo qualche centinaio di anni di pensione Ciao Chi è? Jacopo Teobaldi, un italiano di Pisa Pisa? La città della Torre Pendente? Proprio così Possedeva un albergo proprio davanti alla famosa torre E io l'ho appena comprato per un milione di dollari Ma è uno sproposito Ma che? Sapete quanti turisti vanno a vedere la torre ogni anno? Milioni e milioni E io Possiedo l'unico albergo piazzato proprio davanti Guadagnerò miliardi senza fatica E già Anch'io andrei a vederla se potessi Perché non mi accompagnate laggiù? Avrò bisogno di aiuto Eh? Davvero? Certo La stagione turistica è vicino Potremmo partire domani E laggiù sotto la mia direzione? E laggiù sotto la mia direzione? Potreste occupare ciascuno il posto adatte le vostre capacità? Wow Fantastico Potrei fare il portiere super gallonato con 56 stellette Oppure occuparmi di pubbliche relazioni Affare fatto zio Ho sempre sognato di diventare qualcuno in campo turistico internazionale Perfetto Correte a fare i bagagli Allora domani stesso saremo a Pisa Che bellezza Infatti l'indomani Allacciare le cinture? Prego Atterreremo tra dieci minuti Prendiamo un taxi Presto Non verrà l'ora di arrivare Eccola eccola Eh Fantastico Guardate come pende Eh? Diecimila lire? E' l'inflazione signore Che marmi Che sculture Bella vista eh Pensare fosse a Paperopoli Almeno laggiù i tassisti sarebbero meno e sossi Bah Cerchiamo l'albergo E' certamente tra quelle case laggiù Ecco non è fantastico? Che carino Davvero caratteristico Alla torre pendente Le finestre danno tutte sulla piazza dei miracoli Bivide D'accordo Mentre tu Paperino Puoi scegliere tra le mansioni A, B e C Scelgo la B Eh eh Di che si tratta? Lavare i piatti La cucina laggiù Eh? Ma la C cos'erano? Public relation Servizio clienti Ma quelle le farò io naturalmente Non vale Hai scelto tu no? Quindi fila in cucina E datti la fare Io penserò alla pubblicità Ad attirare i clienti Eh eh Nuova gestione Pdp Poco dopo Prezzi modici e comodità Sotto il naso della torre pendente Che succede? Là Hanno aperto un nuovo albergo Davvero? Che bellezza Proprio vicino ai monumenti A me una camera Io ho una fame Avanti, avanti Eh eh Tavoli letti per tutti Eh? Ma quello non è Paperone? Il celebre miliardario Che ci serve il pranzo Ora sì Che mi sento importante E così Come era prevedibile Un posto a me A me una camera per due Fatti il lacero Prima io Quel Teobaldi Ci ha lasciato anche Tutte le sue fantastiche Ricette toscane Eccolo qua Una finocchiona Una ribollita Tre fiorentine E una torta di noci E questa È la vostra stanza Con vista torre pendente Buon riposo Eh che Da anche piccolino Questo è un po' di mancia Per te Grazie Diecimila lire Mica male Per aver portato Una valigia Gli affari vanno bene Anche a te Eh zio Altro che Siamo già tre volte Al completo E continua ad arrivare gente Continuando così Mi rifarò presto Delle spese Sullo zio Paperino Rischia di restare scontento Infatti Un lavoro adatto a te Scegli tra A, B e C Sono stato gabbato Ecco cosa Anche qui a Pisa E come a Paperopoli E se continua così I piatti da lavare Diventeranno milioni Infatti L'eco della fortuna Iniziativa di Paperone Raggiunge ben presto Anche Paperopoli Ultime notizie Paperone Diventa albergatore A Pisa Proprio così Il nostro concittadino Si fa onore Anche all'estero Merito del suo naso Per gli affari E della fama mondiale E della famosissima Torre di Pisa Anche a Pisa adesso L'ha pensata bella però La torre pendente Richiama milioni di turisti E l'albergo È in posizione strategica È un miliardario Che serva tavola Fa il resto Se continua così Paperone Resterà per sempre In testa classifica Dei miliardari A meno che A meno che cosa A meno che noi Non eliminiamo L'elemento Che maggiormente Attire i turisti Nel suo albergo E cioè Potremmo Radizzare la torre di Pisa Cosa Ma è impossibile Possibilissimo invece Ho qualche cosa Che mi frulla in testa Andiamo Prima di consultare Pio consulteremo I miei tecnici E poi parteremo Per l'Italia La sera dopo A Pisa La cena È stata ottima Molto folcloristico Buonanotte Arrivederci signori Buon viaggio Anche per oggi È finita Per fortuna C'era da fare Eh ragazzi Il povero zio Paperino Non vede la luce Del sole da giorni Tanto lavoro Tanti incassi E questo è quello Che conta È tutto per una torre Storta Vagli a capire I turisti Storta Ma pur sempre Un capolavoro Zio Paperoni È uno dei monumenti Più importanti Del mondo Fu costruita Nel dodicesimo secolo All'epoca Del massimo Splendore La città E non potevano Costruire la dritta Colpa di un cedimento Del terreno Zio La torre Si inclinò Già durante la costruzione E i lavori Furono sospesi Oltre un secolo Dopodiché I pisani Decisero Di correre il rischio E completarono La torre Nel 1372 È scritto anche Nel manuale L'inclinazione Però Non si è fermata Anche oggi Aumenta al ritmo Di 7 decidi Millimetri All'anno Ah Vado a dormire A me basta Che la torre Resti in piedi Il tempo necessario A farmi guadagnare Qualc'altro miliardo Poi si vedrà Andiamo a letto Ora Domani sarà Un'altra dura giornata Chiuso Nessuno in vista È il momento Paperoni Che ha chiuso Bottega E la piazza Di miracoli È deserta La torre È nostra Vieni Passami il piede Di porco Eccolo Andato Ecco Ci siamo Che cosa Sono questi macchinari Flessimetri E sismografi Sofisticatissimi Servono a misurare Ogni altro Minimo gettimento Se questi aumentano Gli strumenti Danno l'allarme Eh E voi come lo sapete I miei tecnici Mi hanno detto tutto Eh eh Ho un quaderno di appunti Sulla torre di Pisa E soprattutto Sul modo di sabotare Questi strumenti Molla quella vite Sposta quel transistor Ecco fatto Il sabotaggio è finito Eh eh Non si vede nulla Certo che no In realtà Tra poco Gli strumenti Indicheranno Che la torre Sta cedendo E questo farà suonare L'allarme Direttamente Nella camera Da letto Del sim Infatti Pochi minuti dopo Che succede? Allarme rosso Inclinazione Torre in aumento Pericolo Pericolo Allarme elettronico Collegata Torre pendente Un fatto gravissimo Devo riunire Al più presto Il consiglio comunale E così I strumenti Indica un uccidimento Dici volte Più veloce Del previsto Se continuerà così Cadrà entro domani Cosa può essere successo? È certo colpa Della numismatica sociale Cosa E l'equilibrio Do sociodinamico Intellettuale Dove lo metti Zitto tu L'opposizione si oppone E propone La proposta opposta Bugiardo Scrocconi Signori Prego Un po' di calma Vi pare il momento Di polemizzare Con un momento Così grave Ma l'esterno Sarà consigliare Propongo quindi Di rivolgersi A degli esperti Tocca a noi Pronto con la commedia È permesso? Sono Mr. Rockerdack Della Rockerdack Company Scusate per ritardo Ma Chi siete? Cosa volete? La riunione È riservata Scusate Devo aver sbagliato Stanza Avevo un appuntamento Per un affare di torri Da sistemare Così Vi occupate di torri? Naturalmente Ma perché me lo chiedete? La nostra torre Sta cedendo E avevamo giusto bisogno Di qualcuno Che potesse rimediare Guarda caso Ho giusto Tecnici E maestranze Disponibili Se il problema È urgente Possiamo cominciare Anche subito Così Non correremo rischi E voi avrete La vostra torre raddrizzata Più presto Raddrizzata? Ma noi non vogliamo Raddrizzarla Vogliamo solo impedire Che crolli Mi spiace Se non la raddrizzate Crollerà sicuramente Ma ai turisti Piace la torre pendente Meglio una torre dritta Che una distrutta Lasciatelo dire A me che sono esperto O la raddrizzerete O non lo garantisco E sì allora La torre è un documento Storico troppo importante Per rischiare L'appalto raddrizzatorio L'appalto raddrizzatorio È vostro Grazie alla fiducia Cominceremo i lavori Immediatamente Raddrizzeremo La torre pendente Entro domani Arrivederci Poveri noi Poco più tardi Nell'albergo Di Paperoni Sono le sette Forza ragazzi Che dormita Sentito? Sono certamente Torni i turisti Che Il bulldozer di qua Molla il cavo Avanti con quelle funi Avvolgete intorno alla torre Rocker duck Quel miliardarucolo da strapazzo E qui Ma cosa ci fa Pisa? Quelle funi Quei trattori Parlano chiari Cento contro uno Che i suoi uomini Lavorano per raddrizzare la torre Cosa? Brutto intrigante Sabotatore Lascia stare la mia torre Capito? Pussa via Sciò fuori dai piedi Il paperonastro Non ci penso nemmeno Ho avuto il formale In carico Di raddrizzarla E io lo farò Che tu lo vuoi o no? Eh? Ma se raddrizzi la torre Nessuno triste Verrà più a vederla Appunto Tu dovrai chiudere bottega Mentre io avrò gloria e onore Per aver salvato la torre di Pisa Sono rovinato No 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 Noi siamo pronti capo Ah sì? Bene Tutti ai vostri posti Allora Tirate Agli ordini Faremo in un attimo Brum 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 Usano i cavi d'acciaio Ci vorrà uno sforzo enorme Non si sposa di un millimetro Crash Avete sfasciato tutto E la torre è ancora al suo posto Oi oi Guarda guarda Raddrizzare la torre È più difficile del previsto Quanto pare Lasciatelo fare Che che Tutto sommato Potrebbe farci anche comodo Infatti Edizione straordinaria Rocker Duck Tenta di tradizziare la torre di Pisa Avete sentito? Che bello Mi piacerebbe vedere come fanno Andiamo a vedere la torre pendente Prima che la ladrizzino Anch'io parto per Pisa Io pure Voglio proprio esserci Vamos E così Pisa Brum Quattro bistecca al 14 12 secondi al 15 Sotto ai palini Mai visto tanti turisti Zio I lavori di Rocker Duck Ne hanno attratti migliaia E noi facciamo affari d'oro Continua a provarci Ecco E che fa un altro tentativo Pronti con quei cavi Tirati Trins Brown Il cavo si è spezzato di nuovo E che E mentre Rocker Duck Fa fiasco Noi continuiamo a fare affari Quella sera Cantiere Rocker Duck S.P.A. È il quinto cavo Che spezziamo E la torre non si è mosso Di un millivito Stiamo facendo Una figuraccia mostrosa E quel che è peggio Va tutto a vantaggio Di Paperone Ora tutti vengono A vedere i lavori Di raddrizzamento E così Il suo albergo È più pieno Che mai Non c'è che una cosa Da fare Usare la morbidonite E farla finita Morbidonite Una sostanza preparata Dai miei tecnici Per i casi più ostinati Ammorbidiremo il terreno E finalmente Potremo rimettere dritta La torre Eh Non sarà pericoloso Non credo In ogni caso Lo faremo stanotte Così nessuno Potrà fermarci E allo stesso tempo Non ne posso più Non la finirò mai Di lavare i piatti È ora di chiudere Andiamo a letto zio Vengo Io non ho ancora finito Non ho neanche la forza Di arrabbiarmi Ora devo cambiare L'acqua alla tinozza La vuoterò in un tombino Tanto Con il buio Nessuno mi vedrà Ecco fatto Grazie alla macchina Slingatrice La formidonite Verrà iniettata Nel terreno Nella doccia necessaria Domani Il terreno Avrà la giusta morbidezza E ci consentirà Di razziare la torre Ora andiamo a letto Buona idea Nessuno in vista Ora cerco un tombino Mi sembra più lontana La vasca di scarico Beh Ottima per versare L'acqua ai piatti Ora posso andare a letto Attenzione ragazzi Il detersivo presente Nella schiuma Sciacquatura Regisce con la morbidonite Che viene iniettata Nel terreno Con un effetto Ammorbidente Dieci volte più potente Il mattino dopo Ehi cosa è successo Al pavimento È gonfio È molle Come un materasso Com'è possibile Nel stesso tempo Aiuto Mi viene il mal di male Blum 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 Cosa è successo al terreno Sembra di essere Lo scienziato Non è più pendente È più pendente Evviva Ce l'abbiamo fatta Una città Una città pendente Grazie amici per aver ascoltato Questa simpaticissima storia Un carissimo saluto E buona giornata E buona giornata E buona giornata